Che dire, ci fermiamo un attimo per quanto riguarda la nostra rassegna stampa dei quotidiani online e andiamo a presentare il nostro secondo ospite di oggi. Benvenuto a Raffaello De Crescenzo. Grazie Pina, un piacere essere qui. Dunque, lei è enologo, scrittore, blogger, esperto di enogastronomia Food & Wine in Italia e all'estero. Ha viaggiato tantissimo e il suo blog si chiama Cultura Agroalimentare ed è nato per diffondere la passione del vino e del cibo di qualità. Eh beh, sì, effettivamente sì. Erano i temi che poi avevo affrontato all'università un po' di anni fa e che mi hanno sempre appassionato. Di conseguenza anche avendo vissuto un po' nel mondo degli eventi e anche commerciale, della vendita di certi prodotti, ho cominciato sempre più a incontrare produttori, anche distributori e a pormi sempre più domande, curiosità. E poi eviscerandole ho deciso anche di condividerle insomma con gli altri. Prima o sì, o agli inizi un po' anche dei social network. che poi se vogliamo oggi sono magari uno strumento più utilizzato, più diffuso per parlare di qualsiasi argomento, ma anche in particolare di questo. A volte si scelgono ristoranti perché fanno dei piatti instagrammati, una cosa mi fa impazzire comunque. Va bene, è così. Però ecco, al di là di quello, anche dal punto di vista del racconto, avere proprio un proprio spazio, che inizialmente era nato come un blog, poi è diventato proprio un vero e proprio sito, dove poter raccontare eventi, riportare certi comunicati stampa, poi di uffici stampa con cui si diventa un po' amici, e scrivere delle riflessioni, andare a degli eventi, incontrare proprio produttori, hai il desiderio di poi di narrare questo fatto. Attualmente lo faccio fondamentalmente anche su altri siti e su giornali, anche cartaceo, tra cui anche il Corriere Adriatico. Però ecco, dieci anni fa ho cominciato fondamentalmente con il mio blog, che poi è diventato un sito, e poi i vari social su cui ho attivato, sì, questo personal brand, se vogliamo, che è cultura agroalimentare. Sì, prima di tanti viaggi, per cui magari avrei scelto un nome diverso successivamente, più internazionale, perché poi il mio obiettivo è quello, sì, di raccontare e aiutare le aziende a valorizzare ciò che fanno, ma fondamentalmente anche di traghettarle, anche a fiere, eventi internazionali, o a supportarle in una visibilità che non sia solo nazionale o locale. Certo, e lei è anche assaggiatore di oli, oltre che di vini, parla spesso di analisi sensoriale, cos'è nel dettaglio, ce lo spiega? Eh, allora, l'analisi sensoriale è fondamentalmente l'utilizzo dei nostri organi di senso come degli strumenti quasi chimici. Alla fine, con l'allenamento, si può arrivare a dettagliare veramente le caratteristiche di un prodotto a un altro livello rispetto all'edonistico, mi piace, non mi piace, o nel caso di un vino, a volte si sentono delle descrizioni molto fantasiose, molto avvincenti per carità, però che nella maggior parte dei casi non hanno poi un supporto scientifico e nella fattispecie anche una validità statistica di un dato. Con l'analisi sensoriale mettiamo insieme persone addestrate a utilizzare i propri organi di senso per valutare diversi aspetti della matrice alimentare che andiamo ad assaggiare, in realtà l'analisi sensoriale si può applicare anche ai servizi, basta essere appunto addestrati, e poi c'è un capo panel che successivamente ha un'estrapolazione dei descrittori più opportuni da utilizzare per valutare appunto un prodotto, un bene, un servizio, fa un'analisi statistica dei riscontri ottenuti dai giudici addestrati ed estracola poi tutta una relazione che ha un peso scientifico, è statisticamente valida e statisticamente rilevante, e quindi sono tutta una serie di indicazioni estremamente utili per il produttore stesso, perché quando io per esempio voglio fare un prodotto che deve andare su un certo mercato, se l'ho anche profilato sensorialmente già so che risponderà meglio ai desideri di quello specifico mercato dove poi ho intenzione di venderlo, oppure magari devo fare delle scelte diverse, devo lavorare all'ielo di comunicazione in un modo diverso. Diciamo che ecco, l'analisi sensoriale è davvero un approcciarsi a un prodotto o anche a un servizio in un modo scientifico e se vogliamo totalizzante, coinvolgente dal punto di vista dell'occhio, del tatto, anche nella bocca abbiamo dei recettori tattili che ci permettono di percepire la viscosità, il grado di viscosità, un liquido anche granuloso, e quindi sono tutte cose che poi definiscono e vanno a dettagliare quello specifico prodotto, sono cose di cui tenere conto anche in chiave ovviamente commerciale, oltre che comunicativa, oltre di ricerca e sviluppo per l'azienda stessa. Insomma, ne parlo spesso perché se ne parla poco, perché purtroppo nel mondo agroalimentare tutti ci sentiamo un po' giudici di qualcosa, vado a un ristorante, do la mia recensione di quello che ho mangiato, di com'è stato il servizio, di come mi sono trovato, non mi sono trovato, e questo va bene, ok. Però ecco, fare dei passi avanti e quindi affrontare con maggior consapevolezza quello che vado ad assaggiare richiede comunque appunto addestramento, allenamento, esercizio costante, e anche lo studio di quello che è l'apparato morfo-fisiologico umano. Quindi, ecco, a volte, banalmente, parlando dell'olio, uno dice, ah ma quest'olio è acido, per esempio. Noi non siamo in grado di percepire l'acidità di un olio, è una cosa che si può fare solo con le macchine. Noi possiamo percepire dei difetti nell'olio, se un olio è rancido, per esempio, se un olio ha incontrato nelle sue fasi di produzione, diciamo, delle trasformazioni che non dovevano esserci, e quindi che hanno lasciato dei riscontri non positivi al prodotto. Però ecco, si gioca anche molto sulla semantica, quindi l'utilizzo delle parole giuste al momento giusto. Non è così facile. Sfido molti, insomma, a definire bene che cosa è sapido e che cosa è salato. Spesso li si usa come sinonimi, ma non sono sinonimi. Ecco, raccontare cibo e vino è raccontare un po' persone e territori. La nostra regione è senza dubbio uno scrigno di eccellenze in questo settore, quindi ci piace vincere facile, possiamo dirlo? Diciamo che il marchigiano è sempre stato un lavoratore impegnato, una persona che si dedica anima e cuore a quello che fa e di conseguenza generalmente il risultato finale è sempre stato buono, nel tempo anche eccellente. Però ecco, sì, non basta fare un buon prodotto, anzi oggi purtroppo in molti casi fare un buon prodotto vale molto meno di tanti altri aspetti che poi fanno sì che quello specifico prodotto esca su uno scaffale a Singapore, in California o nel supermercato della nostra stessa provincia ad un certo prezzo, ecco. Quindi raccontare tutto quello che c'è dietro un prodotto significa contribuire alla creazione del valore di quel prodotto stesso. E questo non è banale, non è così scontato come anche in questi molti casi purtroppo si tende a fare o anche i nostri stessi produttori, imprenditori tendono un po' a fare perché si è molto spostati sulla produzione, su cercare di fare grandi cose e poi al momento di raccontarle per venderle o si è un po' timidi oppure si dice ok, non ho soldi da investire per farlo e quindi lo faccio fare a qualcuno che magari è un po' improvvisato in certi casi il risultato finale poi ci va a penalizzare. Se io ho dedicato 100 della mia energia a produrre una grande cosa, non la racconto bene, magari riesco a venderla a 98 invece raccontandola bene potrei venderla a 150. E questo è il ruolo dei nuovi media sicuramente. Sì, sì. Per quanto riguarda la produzione, il cambiamento climatico sta influenzando tantissimo la produzione sia di olio che di vino insomma le vendemmie di quest'anno hanno avuto qualche problema in tal senso? Le vendemmie di quest'anno, ma come sta successo anche in questi giorni in Toscana, come periodicamente accade in Liguria cioè non c'è più una costanza nell'intensità piovosa. Ci sono dei momenti in cui piove troppo, tanto il terrenone è pronto e succedono i disastri. Nel caso specifico di quest'annata del vino, purtroppo le piogge quando sono arrivate, maggio-giugno hanno creato l'ambiente ideale per lo sviluppo della peronospora. Quindi insomma dei danni considerevoli, in molti casi fino anche a un 40-50% sul vigneto in una fase estremamente delicata dello sviluppo di quelli che poi sarebbero diventati grappoli e di conseguenza la morte prematura di pezzi di vigneto, anche abbastanza importanti. Quindi ecco, tante sono le attenzioni da porre su questi aspetti qui e in certi casi purtroppo non ci si può far nulla, però dobbiamo essere sempre più consapevoli che i cambiamenti climatici sono un problema diretto ma anche indiretto perché poi si creano delle situazioni climatiche tali per cui effettivamente si possono avere maggiori sviluppi di microorganismi o di patogeni vari indesiderati sui quali poi è anche più difficile intervenire soprattutto a luce del fatto che giustamente tutte le produzioni tendano ad andare sempre più verso un'agricoltura biologica, sostenibile a evitare certi prodotti che però in certi casi possono inevitabilmente dare una mano. Ecco, Albin Italy quest'anno lo stand delle marche, non solo Albin Italy ma anche al Merano Wine Festival ha avuto insomma un'importanza notevole, oltre 8 mila visitatori soltanto Albin Italy. Lei c'era, ha visto sicuramente come i visitatori hanno accolto i vini del nostro territorio? Ma allora, le marche veramente hanno, stanno raggiungendo degli ottimi risultati a livello nazionale, internazionale e il punto è che sicuramente c'è ancora molto da fare basta guardare fondamentalmente i valori medi di un ettaro nella nostra regione o in altre regioni o i valori medi di un litro di vino della nostra regione, così come nelle altre regioni. Giusto che la regione Marche investa per promuovere al massimo le proprie aziende, le proprie eccellenze ma il passo avanti va fatto dai produttori stessi. In generale l'Italia è un paese, essendo completamente produttivo, dove bene o male ognuno di noi è un po' campanilista a meno che, vabbè, si pensa sempre a champagne o prosecco, come delle varianti però generalmente in molti casi vado al ristorante e forse ho più un occhio di riguardo verso i miei vini vini che conosco in maniera diretta o in diretta, anziché qualcosa di meno conosciuto o di un'altra regione e questo però non capita solo nelle Marche il punto è che, ecco, ci vorrebbe tra produttori stessi nelle Marche maggior confronto anche per riuscire a creare nuove sinergie, a fare più cartello soprattutto perché poi, per quelli che sono i numeri globali noi non è che facciamo delle produzioni mostruose se ci anche microframmentiamo e la dimensione media di un'azienda nelle Marche è inferiore ai due ettari quindi finisce che non abbiamo la forza per correre autonomamente tutte le gare ma nemmeno per vincerne magari alcune che invece provando a fare il gruppo si potrebbe provare a vincere ecco, l'enoturismo e l'agroalimentare sicuramente sono un po' la soluzione per promuovere il nostro territorio ma anche i piccoli borghi della nostra regione assolutamente sì, la regione ci ha anche studiato una legge al riguardo e vedremo come andrà in realtà le due cose sono abbastanza, a mio avviso, interconnesse tra di loro perché le Marche sono appunto una regione fatta anche soprattutto di piccoli paesi, piccoli borghi e dal punto di vista aziendale fatta anche di piccole realtà, piccole aziende e la sostenibilità ovviamente è un tema di cui si parla, ci si riempie anche un po' la bocca in realtà va, come per l'analisi sensoriale, va studiata, va capita meglio perché poi bisogna prendere delle strade anche molto nette e non facili da prendere certificarsi per esempio Equalitas presuppone tutta una serie di cose che mi vanno anche a pesare sui miei stessi fornitori cioè per esempio se anche quel fornitore lì non è certificato in un certo modo poi non ci posso lavorare Certamente, per saperne di più invitiamo i nostri spettatori a visitare le sue pagine social ricordiamo quali sono? Io ero nato appunto come blog, culturagroalimentare.com c'è anche una pagina Facebook dove mi diverto anche a condividere notizie interessanti che posso trovare in giro, quindi non solo cose scritte da me o riportate sul mio sito e sicuramente c'è anche LinkedIn in più da un paio d'anni insomma anche di più ho un buon canale YouTube dove a volte inserisco anche interviste, racconti quindi i principali social network fino ovviamente ad Ariare e Instagram dove c'è anche un po' della mia vita personale perché a volte è difficile scendere il proprio tra virgolette personaggio che poi non ho mai voluto creare, alla fine sono sempre me stesso però ecco l'idea che magari vorremmo dare agli altri con quello che effettivamente siamo quindi posso soprattutto nelle storie postare momenti anche di vita personale vado a provare un'azienda, un ristorante, faccio un viaggio poi a livello di post magari racconto un tema più specifico che ho anche ripreso su Facebook o su un altro dei social dove sono o su cui magari ho scritto un articolo Bene, ringraziamo Raffaello De Crescenzo per essere stato con noi Grazie a voi Termina qui il nostro spazio con fatti e commenti torneremo domani su TVRS sempre alla stessa ora Grazie per l'attenzione Grazie a voi Grazie a voi